Da Zain, la scorsa volta ci eravamo fermati a parlare di Kant alla distinzione tra fenomeno e noumeno. Il fenomeno è ciò che ci appare e quindi è ciò di cui possiamo avere conoscenza. Il noumeno invece è inconoscibile. Questa distinzione tra fenomeno e noumeno influenzerà molto i filosofi successivi. Potremmo dire che tutto l'idealismo da una parte e anche Schopenhauer dall'altra riprenderanno questa distinzione. Anche se la criticheranno, la rivedranno per l'idealismo è tutto concettuale. Per Schopenhauer invece il noumeno si può scoprire. Questa volontà di vivere che caratterizza tutti gli esseri umani. Quindi la conoscenza è come un iceberg, c'è questa metafora di cui noi vediamo sulla punta ma non sappiamo quello che c'è sotto. Infatti la filosofia di Kant, che lui ha definito filosofia trascendentale, proprio perché si studia queste forme pure della conoscenza, è stata definita anche da Bagnano ermeneutica della finitudine. Cioè perché Kant da un lato dichiara le possibilità e la validità della nostra conoscenza, però dall'altro ne dichiara anche i limiti, i limiti razionali. Infatti riprendendo la distinzione tra fenomeno e noumeno, il noumeno non è che ha un valore negativo. Può avere un valore negativo come può avere un valore positivo. Se noi, quando noi ci riferiamo alla cosa in sé, cioè non negli oggetti che vediamo, il cavallo che vediamo, ma il cavallo in sé, chiaramente arriviamo a degli errori, arriviamo a delle aporie, perché gli oggetti in sé non sono indefinibili per Kant, ok? Perché ogni oggetto si dà a noi in relazione a come lo costruiamo nella nostra mente. Siamo noi che diamo delle leggi alla natura, non è la natura che ha delle leggi che noi dobbiamo scoprire, ok? Come la distinzione tra invenzione e scoperta, ok? La scoperta è qualcosa che c'è già e che noi scopriamo, tiriamo fuori. L'invenzione è qualcosa che noi costruiamo per dare un ordine alla realtà. Quindi, senza le categorie noi non potremmo dare un ordine alla realtà. Però quando Kant è voluto passare dalla sensibilità, cioè dalla ricezione passiva degli stimoli, dalle prime rappresentazioni alla formazione dei veri e propri concetti, è arrivato ad una aporia, perché da un lato abbiamo la sensibilità, che è quella che è trattata nell'estetica trascendentale, che riguarda le prime rappresentazioni che noi ci formiamo, in cui ordiniamo le impressioni sensoriali, formandoci una prima rappresentazione attraverso le forme pure a priori, le intuizioni pure di spazi di tempo. Ma poi ci sono dei concetti più profondi, più approfonditi, diciamo, quelli che ci formiamo attraverso le categorie, e quelli sono formati dall'intelletto, che però l'intelletto non è produttivo, come la sensibilità. Non produce rappresentazioni. Quindi come si fa ad avere un concetto empirico, un concetto a... oltre ai concetti puri, appunto, che abbiamo visto, come si fa ad avere un concetto empirico, un concetto di cavallo? Allora interviene una facoltà intermedia tra intelletto e sensibilità, l'intelletto è trattato nell'analitica, ma anche questa funzione intermedia che fa comunque parte dell'intelletto, che è l'immaginazione, l'immaginazione produttiva, che è in grado di produrre lo schema, lo schematismo. Che cos'è questo schematismo? Kant lo definisce come un monogramma, cioè come il negativo della foto, no? Ciò che ci permette poi di costruire la foto, l'immagine. Perché l'immagine può essere riproduttiva, quindi quella è nella memoria, no? Abbiamo immagini di ciò che abbiamo visto, oppure può essere produttiva. Il concetto è qualcosa di produttivo, che non è il concetto di triangolo, non è un triangolo particolare. È la regola che mi permette di costruire il triangolo, che per esempio dice che la somma degli angoli interni è a 180 gradi, che il triangolo è una figura con tratti, però non c'è un'immagine particolare. Se noi ci fermiamo a un'immagine particolare, abbiamo il triangolo scaleno, il triangolo rettangolo, quel particolare, il triangolo scaleno, con quel colore che ho disegnato sul foglio, ma quello non è il triangolo, ok? Quella è solo la rappresentazione che mi arriva ai miei sensi. Il concetto di triangolo è qualcosa che arriva prima e che viene costruito attraverso questo schema prodotto dall'immaginazione. spero più o meno di essere stato chiaro. Cos'è che permette la deduzione trascendentale? Cioè, cos'è che permette dalle categorie il formarsi poi dello schema e del concetto di oggetto, diciamo? È l'io-penso, l'io-penso è ciò che unifica tutte le rappresentazioni, perché noi nella nostra mente non facciamo altro che unificare varie rappresentazioni, questo criterio unificante è l'io-penso che accompagna tutte le mie rappresentazioni, perché sia le rappresentazioni che mi formo a partire dai sensi, sia i concetti che mi formo a partire dalle categorie unificano i concetti espressi in varie categorie in un unico concetto che è l'io-penso, che unifica, precede e accompagna tutte le mie rappresentazioni. Infatti Kant chiama l'io-penso come il legislatore della natura, cioè quello che impone le leggi alla natura e solo imponendo delle leggi alla natura noi possiamo arrivare a una conoscenza, quindi non è che le leggi esistono a priori e noi le dobbiamo scoprire, ma siamo noi che imponiamo le leggi alla natura attraverso l'io-penso, che non è l'io-penso cartesiano, l'io-penso cartesiano aveva dei contenuti, l'io-penso invece kantiano è una proposizione anche analittica, come dire a uguale ad a, io-penso è una tautologia, non aggiunge niente alla conoscenza, è una proposizione vuota, vuota di contenuto, che però accompagna tutte le nostre rappresentazioni. Quindi l'edificio che sta costruendo Kant, perché Kant vuole costruire l'edificio della conoscenza in modo solido, però lo costruisce con una base che non è, che sembra non essere solida, no? L'io-penso, non è più l'io-penso cartesiano, dove c'erano le idee innate, tra cui anche quella di Dio, che ci permettevano poi di conoscere tutta la realtà e di non avere dubbi sull'esistenza o non esistenza delle cose. Per Kant l'esistenza comunque, infatti poi nella dialettica trascendentale, la parte successiva, definirà ciò che noi non possiamo conoscere, ciò che è inerente al numero, unmeno, che però non è che non sia importante, ok? Che cos'è che è inerente a unmeno? Che tutta la filosofia ha sempre studiato e di cui si è sempre parlata. L'anima, che attiene alla psicologia razionale, il mondo, che appartiene alla cosmologia razionale, e Dio, che appartiene alla teologia razionale. Queste tre concette, queste tre idee, anzi non sono più concetti, ma sono idee, perché la ragione se le costruisce andando oltre l'esperienza, cioè non c'è più un'esperienza sensibile, noi non possiamo vedere tutto il cosmo, non possiamo vedere Dio, non possiamo vedere l'anima, quindi ce ne facciamo un'idea, diciamo così, ok? E ne postuliamo l'esistenza, ma lui fa capire che, se ragioniamo in modo logico, se noi postuliamo l'esistenza o postuliamo la non esistenza, arriviamo comunque a delle contraddizioni, arriviamo comunque a delle antinomie. Infatti la prova, per esempio, ontologica di Dio, quella di Sant'Ansemo, lui la confuta con i famosi 100 talleri, se noi diciamo ho 100 talleri, 100 euro, come dire, insomma i soldi di allora, ho 100 talleri davanti a me, o ce li ho in tasca, o ce li ho nella mia immaginazione, è la stessa cosa, è indifferente, c'è comunque dentro di me il concetto dei 100 talleri, quindi questi 100 talleri potrebbero esistere, come potrebbero non esistere. Quindi l'esistenza noi è un attributo che diamo a priori, a posteriori, agli oggetti che li attribuiamo dopo, non può essere un attributo attribuito a priori. Dopo l'esperienza, possiamo dire, solo dopo l'esperienza, dopo averle visti, possiamo dire che questi 100 talleri esistono. Se non li abbiamo visti, non possiamo dire che esistono, e possiamo dire che esistono, come possiamo dire che non esistono. In sostanza, adesso non è proprio la prova che fa Kant, però se pensiamo alla prova di Sant'Anselmo, diceva Dio è l'essere perfettissimo, che ha in sé tutte le qualità, e quindi tra tutte queste qualità ci deve essere anche l'esistenza. Questa era la prova di Sant'Anselmo, prova a priori, ontologico, che però, questo Kant confuta perché dice un silogismo, noi un silogismo possiamo dire che, non so, ogni uomo è immortale, Matteo è immortale, Matteo è un uomo e quindi Matteo è immortale. È chiaro, questa, è valida, questo silogismo è valido, ma non è vero, perché parte da premesse che sono false, quindi noi da premesse false possiamo fare un ragionamento valido, ma non possiamo necessariamente arrivare a conseguenze vere. Quindi la prova ontologica viene confutata, così anche come la prova cosmologica, che era quella di Aristotele, ogni cosa che esiste nel mondo ha una sua causa, quindi esiste la causa di tutte le cause che è Dio, che è l'unico ens causa suo, l'unico che è causa di se stesso, ens causa sui, l'unico che è causa di se stesso. Ma anche questo è sbagliato, perché noi le cause le possiamo vedere nei fenomeni che osserviamo, ma se non osserviamo nei fenomeni che non osserviamo, non possiamo sapere una causa anche solo dell'uomo, qual è la causa dell'uomo, non l'abbiamo osservata, non possiamo saperla, e quindi anche la prova cosmologica casca, anche la prova teleologica, anche perché la prova teleologica presuppone comunque l'esistenza del... se c'è l'orologio ci deve essere anche l'orologiaio che l'ha costruito, però questo vale per le cose reali, quindi questo orologiaio poi deve avere dato un ordine al mondo secondo certi fini, prova teleologica, ma se non esiste l'orologiaio non esistono neanche i fini, Kant diceva insomma, se noi abbiamo una proposizione, diciamo anche sintetica, e sopprimiamo uno dei due, il soggetto per esempio, può restare da solo attributo, insomma adesso non andiamo nel merito di tutta questa distinzione e ragionamento perché perdiamo troppo tempo, però quello che è interessante è che Kant riflette sui limiti della nostra ragione pura, ok? Però questo non finisce, poi la tratta di tutto, quello di cui può trattare la filosofia, perché la filosofia comunque si occupa di metafisica, già a suo modo lui aveva definito l'analitica dei concetti come metafisica, perché è una sua metafisica generale, diciamo, questa invece della relativa all'omumeno è una metafisica speciale, che non è conoscenza scientifica, ma può essere oggetto della filosofia, ok? Infatti poi nella critica della ragion pratica, lui si farà altre domande rispetto a quella che si è posta nella ragion pura, nella ragion pura esistono queste conoscenze a priori, come possiamo conoscere noi la realtà, adesso si chiede cosa devo fare, cosa posso sperare, cosa è giusto, quindi arriviamo a definire cosa è l'etica, e quindi l'uomo non è dotato solo di questa ragione, ma è dotato anche della volontà, quindi l'altra facoltà umana che è importante, che Kant considera è la volontà, ok? E lui cerca, nel definire un'etica, cerca di liberarsi delle cosiddette massime, cioè di tutte le massime morali, non fare quello, non fare quest'altro, ma di fondare un'etica del soggetto, questo li deriva poi dal pietismo, basata proprio sulla volontà del soggetto, su un dovere per dovere, come si dice, quindi definisce, ci sono vari tipi di etica, oggettiva, eterna, formale, a lui cerca, lui interessa, diciamo, l'etica oggettiva, universale, formale, ok? Che potesse valere per tutti, non un'etica relativa a singoli eventi particolari, ok? E fa proprio tutta una storia delle concezioni morali, eteronome, per esempio quelle derivate dall'esterno, che possono essere oggettive e soggettive, e quindi comincia a criticare, no? Oggettive, per esempio, quelli degli stoici, non darsi una morale interna, basata sulla perfezione, ma questa perfezione, questo concetto di perfezione, che cos'è? Quelle esterne sono quelle dei moralisti, che ci sono delle costruzioni esterne, a cui dobbiamo obbedire. Poi ci sono quelle soggettive esterne, per esempio, l'etica fondata sull'educazione, quella di cui parlava Montaigne, o quella civile, sul vivere civile, quella di Mandeville, oppure soggettive interne, no? Quindi un sentimento filosofico mio, come quello di Epicureo, no? E lui invece, diciamo, anche per la ragione pratica, fa una dottrina degli elementi, basata sull'analitica, dove analizza il significato di massima ed imperativo. La massima, abbiamo detto, che la sentenza morale è riferita a un caso particolare, l'imperativo può essere ipotetico, per esempio, regole di abilità e consigli di prudenza. Se succede questa cosa, allora faccio quest'altra, ok? Quindi è ipotetico. Ma l'imperativo morale, cantiamo, deve essere un imperativo categorico, ok? Cioè, non deve avere delle ipotesi da cui partire, deve essere valido per tutto. E per questo, nella dialettica, poi invece, definirà l'antinomia del sommo bene. Anche questo è molto interessante, no? E' un concetto che era stato discusso anche da Platone. La moralità ci causa la felicità. Ecco, questo poi alla fine, Kant finirà per non rispondere a questa frase. E tu comunque, la sua sentenza è che si deve, per dovere, si deve obbedire alle leggi morali per un dovere che uno sente, non per essere felice. La morale deve essere sganciata dall'utile. Infatti, lui individua tre leggi, importanti. Tre principi, diciamo, su cui fondare una moralità universale, una morale universale. Il principio di agire in modo che la tua massima soggettiva serve come legge universale. Cioè, quando stai per fare qualcosa, chiediti se tutti facessero come te, cosa succederebbe in pratica, no? Quindi, c'è una critica che poi viene fatta in questi casi dagli utilitaristi, perché in alcuni, bisogna sempre circostanziare, dicono gli utilitaristi. In alcune circostanze, ad esempio, può essere opportuno mentire se questo è a fin di bene. Quindi, è chiaro che se tutti mentono, poi diventa una confusione. Però, in certe circostanze, quindi, la morale universale c'è questo svantaggio che circostanziandola, come la legge è uguale per tutti, principio universale del diritto, però poi c'è il principio particolare che dipende dall'interpretazione della legge, a cui si arriva a dire che la sentenza è diversa poi alla fine per ciascuno. Perché se la sentenza fosse la stessa per tutti, cioè, non ci sarebbe giustizia. Quindi, ci sono questi due opposti, queste due tendenze che si, opposte, antinomiche, che però si scontrano poi nel definire il concetto di giustizia. Comunque, l'altra sentenza importante è agisci trattando il prossimo come fine e non come mezzo. Quindi, è una morale, quella di Kant, basata sulle intenzioni, ok? Cioè, vedi sempre gli uomini come fini, non come strumenti per raggiungere un tuo utile, ok? Lui dice sempre che preferisce il... al genio, lui preferisce, affermerà poi di preferire il santo, perché il santo è quello che pratica la giustizia, fiat giustizia perat mundus, cioè, l'obiettivo deve essere proprio la giustizia, al contrario di quello che succede al giorno d'oggi, insomma, in sostanza. Comunque, quella di Kant abbiamo detto che è una morale delle intenzioni e non del mondo empirico, no? O della... come sostenevano gli empiristi, no? Che dicevano che la morale deriva dalla simpatia tra gli individui, dalle leggi che si definivano nel mondo, o come diceva Jung, oppure dell'aldilà, irrazionalisti, principi metafisici, irrazionalisti, no? Deve essere una morale dell'intenzione dei soggetti. Infatti, la terza legge importante è agisci in libertà, cioè il soggetto deve essere un autolegislatore, non deve essere obbligato da una morale esterna, ma deve assumere la morale dentro di sé. Infatti, nella tomba di Dante, di Dante, scusate, nella tomba di Kant sta scritto il Salmo 19 della Bibbia, il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me. Infatti, lui fonderà appunto tutta la sua morale sui tre postulati del noumeno, cioè la libertà, solo se sei libero può essere un essere morale, no? L'immortalità dell'anima, questo sommo bene, di cui parlavamo prima della felicità, della realizzazione raggiunta con la giustizia, si può raggiungere in una vita infinita, in un reciclo infinito di anime, uno poi sceglierà quella giusta. E il postulato di Dio, cioè quindi uno deve combattarsi bene perché in vista di questa salvezza ultraterrena che è garantita dopo la morte. Ecco, però per lui è importante nell'opposizione tra deismo e teismo. Diciamo, il deismo è quello che fonda anche su uno scritto di Kant lui aveva proprio fondato sulla ragione la fede. Il teismo invece è la fede, la fede è fondata, Dio è fondato su un ordine morale, ok? Quindi è importante che Dio non sia presente, che non sia un Deus absconnitus perché così gli uomini creano questa morale di intenzione e si proiettano verso Dio perché se Dio è presente già ci dice come ci dobbiamo comportare noi non adottiamo la morale come la intende Kant. Bene, questa è la critica della ragione pura. Poi c'è la critica del giudizio importante trattato dove lui risponde alla domanda cos'è il bello e parla appunto di un'altra facoltà importante della mente che è il sentimento. il sentimento è un particolare stato di contemplazione con cui l'uomo osserva il fenomeno e cerca di vedere di trovare in questo fenomeno delle finalità delle finalità che non riesce a scoprire in sostanza e questo è il sentimento di bello che nasce dall'accordo tra l'immaginazione e l'intelletto. Il bello agisce seguendo le categorie però non arrivando a definire qualcosa di concreto diciamo per esempio per quanto riguarda la qualità c'è questa contemplazione disinteressata del soggetto l'opera d'arte noi contemporaneamente c'è anche la critica del gusto che è determinato e indeterminato contemporaneamente perché noi riconosciamo nell'opera d'arte qualcosa che ci piace qualcosa che sia di bello che è per noi ma sappiamo anche che lo è per tutti gli altri quindi c'è questa come dire senza sapere bene perché però noi abbiamo questa percezione e questo è il senso di bello detto abbastanza velocemente perché se no il video dura 55 minuti quindi poi appunto definirà anche ovviamente il giudizio teleologico che adesso non voglio stare tutto a fare la pippa del giudizio teleologico però è sempre fa parte di questo cercare dei fini delle negli oggetti della natura cercare delle finalità questa è la telos la teleologia e poi oltre che il bello che rappresenta un accordo tra l'immaginazione e l'intelletto ci sono c'è il sublime il sublime che può essere che deriva sempre dalla contemplazione di certi tipi di realtà può essere matematico o dinamico matematico di fronte a cose gigantesche enormi incommensurabili e dinamico rispetto alle potenze della natura quindi i vulcani esplose vulcani terremoti maremoti questo è il sublime quindi questi sono concetti che poi verranno ripresi dai romantici quindi i romantici piacerà molto Kant l'ultimo suo trattato è per una pace perpetua in cui lui poi ha definito Kant la sua concezione della storia le sue varie concezioni della storia per esempio varie visioni della storia che possiamo come possiamo vedere la storia degli uomini come una storia terroristica una visione terroristica interpretazione terroristica quindi la storia che andrà a finire male ci sarà la vocalisse ci sarà la fine dell'umanità come una visione abderitica e una visione abderitica abdera questa città governata dal caos quindi la storia è un continuo caos un alti e bassi alti e bassi senza anzi neanche un ordine ha altissimi cioè non c'è una regola è tutto caotico no? come una fatica di sisifo oppure la visione eudemonistica cioè la storia dell'uomo arriverà alla fine alla felicità dell'uomo Kant aderisce alla visione progressiva cioè qua a seconda della lettura che noi diamo alla storia quella poi e se non diamo una lettura positiva avremo una visione positiva arrivederci a tutti grazie grazie